Partiamo col dire che sono trentino e già questa cosa può spaventare se dico che parlo di granite siciliane, no? Un'altra cosa che può spaventare è la mia faccia, ma è mattina e forse è per questo che sono conciato in questo modo. In ogni caso io vi posso assicurare che ho trovato, grazie ad alcune persone, all'aiuto di alcune persone, le ricette giuste per ottenere delle granite siciliane perfette, cremose, morbide, vellutate, proprio come vuole la tradizione. Scusatemi poi se non mi sono fatto vedere in questa parte centrale di agosto, ma purtroppo mi hanno fatto un intervento ai denti, no? E infatti io questi due denti canali ho dalla nascita e due incisivi laterali, una mascherina per nascondere questo problema. Adesso ho fatto l'intervento proprio con le viti per fissare le capsule e le capsule verranno messe su tra cinque mesi. E quindi ecco, avevo un male cane e non mi sono fatto vedere per questo. Quindi grazie alle Instagram stories ho chiesto ai siciliani, agli esperti in materia di granita, se potevano darmi alcuni consigli a riguardo, perché così tutti noi riusciamo ad ottenere delle granite migliori, perché questi consigli adesso li condivido qua. Le tre granite più classiche della Sicilia, a parer mio e a parer di molti, caffè con la panna, mandorla e quella di limone. Non sto qua a cucinare oggi ma perché ho la tavola in garage e poi è un casino insomma portarla su proprio. Quindi andiamo in cucina ma poi quando sarà ora di gustarle, veniamo qua all'aperto, proprio ce le gustiamo così, nel verde. Granita e il caffè la prima che facciamo, si usa a gustarla soprattutto nel messinese e siccome il profumo, il gusto è bello intenso, viene smorzato questa intensità con della panna montata. Partiamo dall'acqua, aggiungiamo lo zucchero, poi qua come potete vedere ho una bacca di vaniglia svuotata. I semi li avrò usati per una crema pasticcera, non mi ricordo cosa, ma queste bacche qua poi non buttatele perché possono aromatizzare i dolci. Quindi ad esempio in questo caso andrà messa in infusione con lo zucchero e rilascerà i profumi. Un pizzico di sale per esaltare il sapore. Una volta che comincia a bollire calcoliamo otto minuti, poi spegniamo. Ho spento la fiamma, vedete che si è formato un bello sciroppo, il caffè che ho preparato con la mocha. Mescolata e adesso facciamo raffreddare completamente immergendo la pentola in un lavandino con dell'acqua fredda, così almeno il raffreddamento sarà più veloce. Si è raffreddata quindi la versiamo in un contenitore, meglio se di vetro. Togliamo, adesso ormai è andato giù, il baccello di vaniglia. In freezer e almeno tre volte, no anzi due volte, ma sarebbe meglio tre, rompiamo i cristalli di ghiaccio che si formeranno con un mixer, con un frullatore ad immersione, oppure con un mixer normale, per avere una garanzia sulla riuscita di questa granita, che come abbiamo detto deve essere vellutata e morbida. Potreste usare anche la gelatiera, se avete la gelatiera, quando la farete. Adesso prepariamo la granita alla mandorla, credo che sia in assoluto la mia preferita, perché poi la mandorla ha all'interno delle parti grasse buone, di grasso buono, vegetale, e regaleranno ancora più cremosità. Ovviamente per ottenere una granita alla mandorla spaziale dovete usare delle mandorle buone, allora prima cosa usate delle mandorle con questa polverina sopra che regalerà aroma alla granita, perché se la polverina non c'è vuol dire che sono state trattate e sciacquate e parte del gusto è andato via. Utilizzatele con la buccia, utilizzate delle mandorle possibilmente siciliane o comunque italiane, ecco non estere perché le nostre mandorle sono più buone. Versiamole in un pentolino, un litro di acqua e portiamo a sfiorare il bollore. Una volta sfiorato il bollore spegniamo. In questo modo ammorbidiremo leggermente le mandorle e nel frattempo spengo. Sarà più facile frullarle e ottenere il latte. Versiamo il contenuto della pentola in un frullatore. Per questo step potreste anche utilizzare il mixer ad immersione, però bisogna fare più passaggi perché altrimenti magari fa più fatica e si intoppa. E ovviamente frulliamo per qualche secondo. E' molto grossolano, però c'è un profumo di mandorla strepitoso. Adesso lasciamo i pezzettini di mandorla in infusione con l'acqua fino al completo raffreddamento e poi mixiamo col frullatore ad immersione per ottenere, per proprio estrarre ancora di più i profumi, i principi di... non so come posso chiamarli. Comunque tutte le cose buone che può rilasciare la mandorla nell'acqua. Adesso frulliamo con il mixer ad immersione. Si è raffreddato il composto. Con la pasta, un canovaccio pulito che utilizzate magari spesso volentieri per queste preparazioni di filtraggio in modo tale che non sia stato lavato con dei detersivi troppo aggressivi. Metà del contenuto della ciotola, quindi prendiamo quel canovaccio così, lo chiudiamo bene e cominciamo a schiacciare piano piano. Vedrete che esce il liquido, questo qua è il latte di mandorla. Fa un colore un po' più intenso, non bianco, perché abbiamo usato la buccia. La polpa esaurita la mettiamo in una ciotola nel frattempo. Stessa cosa. Ecco, diamo magari una leggera sciacquata con poca acqua. Cosa possiamo fare quindi con l'eucara, quindi questa farina di mandorla esaurita? Possiamo aggiungere dell'acqua, frullare nuovamente e ottenere ancora un po' di latte di mandorla, ovviamente più leggero rispetto a quello che abbiamo ottenuto per la granita. E successivamente con questa farina, no, ancora più esaurita, ovviamente proprio schizzata male, possiamo ottenere della farina di mandorla. Basterà distribuirla su una placca, farla essiccare un po' e poi usarla proprio come se fosse della farina di mandorla. Abbiamo quasi finito. Versiamo il latte in una pentola. Aggiungiamo lo zucchero, pizzico di sale e poi, ingrediente assolutamente facoltativo, ma lo uso per dare ancora più personalità alla granita, aggiungo un goccino, ma proprio tipo un cucchiaino raso, di essenza di mandorla amara. Adesso la cuociamo e quando comincia a bollire calcoliamo 5 minuti e poi si spegne. E adesso la immergiamo nel lavandino con l'acqua fredda per farla raffreddare più velocemente perché noi siamo furbi. E' denso quasi, non abbiamo mica messo amidi né niente. Ogni tanto diamo la mixata per rompere i cristalli di ghiaccio. Quelle tre volte sono necessarie. Siamo arrivati all'ultima granita, signore e signori. Il limone è una granita freschissima che si usa a gustare soprattutto al mattino o come fine pasto. Abbiamo una leggera nota aromatica perché abbiamo poca scorza di limone ma non dobbiamo eccedere perché altrimenti poi risulta troppo aromatica. Abbiamo del succo di limone appena spremuto freschissimo di limoni anche qua siciliani nel mio caso ma che siano comunque italiani e soprattutto non trattati. Pochi ingredienti come nell'alte granite ma devono essere buoni. Guardate un po' che novità acqua. Un'altra novità zucchero. Aggiungiamo la scorza di un limone, non trattato ovviamente, e il pizzico di sale. Adesso sta cominciando a bollire. Calcoliamo otto minuti e poi si spegne. Immergiamo la pentola in un lavandino con dell'acqua fredda. Composto raffreddato completamente. Importante. Rimuoviamo le scorze di limone. Versiamo la granita in un contenitore. Deve ancora essere granita ma vabbè. E anche qua o gelatiera oppure poniamo in freezer e ogni tanto diamo la frullata. Congelatore. Ci vediamo dopo. Ecco vedi che si è formato un primo strato di ghiaccio. Adesso la togliamo e la frulliamo. Si è montata. Queste altre due sono abbastanza morbide ma poi ovviamente faremo lo stesso procedimento che abbiamo usato per questa. Ciao. Ciao. Una volta o due possiamo anche usare la forchetta. Non c'è problema. Però comunque diamo la precedenza al mixer. Allora le granite sono quasi pronte. Io mi preparerei la panna a sto punto perché così mi porto avanti no? Mi organizzo. Vai così. Ecco vedete montata ma non troppo soda eh. Allora impiatiamola qua direttamente all'aperto che così ho il set fotografico pronto. Così. Quella al caffè. Io metterei poca panna sul fondo del bicchiere. Ho dei bicchieri diversi ma perché purtroppo cosa è successo? Che me ne si è rotto uno, ne avevo tre di questi. Quindi quella al limone la metto in un bicchiere diverso. Mi devo adattare così. Nel frattempo il sottofondo delle capre è sempre immancabile. Ok così. E poi ci mettiamo un chicco di caffè per decorazione. Adesso procediamo con quella la mandorla che vi devo dire la verità secondo me dovrebbe rassodarsi ancora un po'. Però a mio parere magari per molti è già sufficiente così. Comunque anche questa bella cremosa. Mi metto qua davanti al faro perché come al solito è arrivata notte causa foto. Quindi io vi saluto. Il video è finito. Io spero come al solito che vi sia piaciuto. Che vi siano piaciute le ricette. Siciliani spero di essere stato un bravo allievo. Adesso le rimetterò un attimo in freezer perché cominciano un pochino a squagliarsi. Altrimenti provatele a fare. Se le provate a fare taggatemi su Instagram o su Facebook. A me fa un sacco piacere. Ci vediamo lì direttamente anche per le stories e tutte le altre cose. Vi lascio qua altri due video se non li avete ancora visti. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. E attivando la campanella rimanete sempre aggiornati sui contenuti. E invece qua sotto c'è il collegamento con il blog per le ricette scritte. Grazie ancora. Noi ci vediamo molto presto qua sul canale. Perché adesso torno in modo regolare. Adios. Grazie come al solito. Adesso bisogna che mi organizzi a portarle giù. Ma prima me ne mangio una.